Buongiorno, è vero che lo taglio per Lucio Valsalini, in direzione staglianazio focale, campionato propulsale di Filoni A. Allievi di Pesco si incontrano Unione Spuntura, chelizianese Unione Spuntura Prolegato, per i dati, dirige l'incontro il signor Matteo Campani di Pesco, informazioni, gloria camminata, numero 2, Giovanni, numero 6, Amato, numero 4, Sardi di Cazzo, numero 5, Dei, numero 4, Marco, numero 5, Quattro, Sardi di Cazzo, numero 8, Borcarello, numero 9, Gianni, numero 10, numero 8, Cristo, a disposizione del signor Massimiliano del Magno, numero 12, Sardi di Marco, numero 15 Numero 10, Sinello. Numero 11, Farnini. A disposizione del titolo Alessio Corani. Numero 12, Pernieri. Numero 12, Marcacci. Numero 14, Mettiamone. Numero 15, Corri. Numero 16, Pampanoni. Numero 15, Pernieri. Numero 16, Pampanoni. Numero 16, Pampanoni.